buongiorno buongiorno da onda di Gino apertura subito lo screening questa volta dei medici di base scoperti sei positivi al centro tamponi del palazzetto dello sport e quindi anche i medici di famiglia disinnescano dei potenziali focolai facciamo il punto nel nostro servizio sei positività riscontrate su circa 180 tamponi effettuati e questo è il bilancio dei primi dieci giorni dell'attività di screening portata avanti dei medici di famiglia che in forza della convenzione siglata dalla regione hanno allestito la postazione a palasport messa a disposizione dal comune per svolgere i test antigenici rapidi ai propri pazienti unitamente a croce rossa e protezione civile non uno screening di massa ma un'opportunità riservata esclusivamente contatti di casi accertati e sospetti covid ma che ha permesso comunque soprattutto in questo periodo di disinnescare dei focolai più vasti in ambiente scolastico le sei positività scoperte caricate sul portale afferiscono infatti al focolaio che sta interessando le scuole sta pesando sulla curva epidemiologica un'esperienza è un'esperienza interessante perché vette insieme tutti i medici di medicina generale di sul mona e che lavorano insieme riescono a realizzare qualcosa di utile per tutti quanti per tutti quanti cittadini e questo è lo scopo che poi ci ha convinti a seguire questa strada e quando afferma roberto de santis che in una nostra intervista disponibile nella versione integrale su youtube ha fatto il punto della situazione tanto sull'iniziativa quanto sul rapporto tra sanità ospedaliera e territoriale che si fa sempre più fatica a legare i medici di famiglia non si sono risparmiati dopo l'accordo siglato dalla regione nonostante che dalla stessa regione non sia mai arrivato l'ok per realizzare il famoso ambulatorio unico ovvero la cosiddetta casa della salute un punto di riferimento importante per la medicina del territorio una proposta che viene reiterata da tre anni senza riscontri positivi ma i medici non mollano noi volevamo appunto organizzare vogliamo organizzare un ambulatorio che dovrebbe funzionare 24 ore al giorno intercalandoci con la guardia medica con la continuità assistenziale dove si potessero si possono affrontare tutte le problematiche che riguardano il cosiddetto di codici bianchi quindi tutte le problematiche possono essere risolte dai medici di medicina generale senza una diagnostica diciamo di tipo avanzato lo screening al palazzetto andrà avanti fino al 3 aprile vede 17 medici di famiglia in campo il servizio è attivo dal martedì al venerdì dalle 14 e 30 alle 17 previa prenotazione diretta presso il proprio medico di base ma lo screening come detto riservato ai sospetti covi dei contatti di casi accertati oltre all'esercito di volontari in campo anche i medici lanciano il cuore oltre l'ostacolo per intercettare nell'alveo dei propri pazienti positivi asintomatici con la speranza che a gente su più fronti la prevenzione serva per bloccare il contagio il virus c'è non abbassare la guardia questo l'appello che arriva dal presidente della regione abruzzo marco marsiglio alla vigilia del rientro in zona gialla che è fissato per la giornata di lunedì primo febbraio questi sono gli ultimi grafici che sono finiti sul tavolo della cabina di regia del governo centrale che come sapete si è riunita nella giornata di ieri l'abruzzo che era in zona arancione dallo scorso 17 gennaio sarà dunque in fascia gialla da lunedì primo febbraio a causa della scadenza dell'ordinanza attualmente in vigore valida fino a domani 31 gennaio sono in area arancione puglia sardegna sicilia umbria e la provincia autonoma di bolzano tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla con il passaggio in fascia gialla sarà possibile uscire dal territorio comunale ma resterà in vigore il diveto di spostamento tra le regioni coprifuoco scatterà dalle 22 alle 5 gli spostamenti al di fuori di queste regole saranno disponibili solo per comprovati motivi di salute lavoro necessità le visite a parenti e amici sono consentite una sola volta al giorno all'interno della stessa regione o provincia autonoma tra le 5 le 22 per un massimo di due persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione la persona o le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni o le persone disabili non sufficienti che convivono con loro l'apertura di bar e ristoranti al pubblico è consentita fino fino alle 18 è possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali dalle 5 alle 18 dopo le 18 fino alle 22 sono consentiti la vendita a domicilio le consegne a domicilio nelle giornate festive prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti nelle gallerie dei centri commerciali a eccezione di farmacie para farmacie presidi sanitari punti vendita di genere alimentari tabacchi e edicole per il resto come il resto avviene insomma nella zona arancione i negozi gli esercizi commerciali restano aperti e ora la cronaca con il femminicidio nel torinese un po il ritratto della vittima ragione vittima di rocca casale e intanto la procura ha disposto l'autopsia per madre e figlio uccisi dal marito uroxicida ovvero il 39enne di carmignola che si è stato il giudice che la sentiamo nel nostro servizio o l'incarico formale sarà assegnato nelle prossime ore ma il pubblico ministero Laura Deodato della procura della repubblica di asti ha disposto l'esame neotoptico per madre e figlio uccisi dal marito uroxicida, ovvero il 39enne di Carmignola, che si trova in stato di arresto piantonato nell'ospedale cittadino dove aver tentato il suicidio. L'esame peritale è sostanzialmente un atto dovuto perché dal punto di vista investigativo l'inchiesta ha preso un'unica direzione, quella evidente, cioè femminicidio e dramma familiare. Ci vorrà ancora qualche giorno per il rientro, tra virgolette ovviamente, a Rocca Casale, di Teodora Casasanta, la vittima originaria del centro Peligno, che è letteralmente sotto shock in un clima di silenzio e incredulità. In paese non si parla d'altro, nessuno riesce ancora a farsene una ragione. Disgrazie ai mani, purtroppo sono cose che non ci abbiamo parole o non ci abbiamo. Nessuno si pensava che un atto così grave toccasse questa comunità. è una piccola comunità, è un grande dolore, un grande dolore che ci portiamo dietro e naturalmente tutte le nostre condoglianze vanno alla famiglia che pure da poco hanno perso, pure il padre l'hanno perso e quindi ci stringiamo uniti a questa ragazza che è una ragazza stupenda. Dall'uomo di piazza al primo cittadino tutti non riescono a spiegarsi come un dramma così violento e grande possa toccare da vicino la piccola comunità peligna, ma tant'è. In queste ore resta il ricordo di Teodora, la giovane psicologa che tornava sempre in paese, almeno fino a poco prima della pandemia. Teodora si era recata nel Torinese dopo essersi laureata in psicologia proprio per lavorare. Ora prestava servizio al Cufrad nella vicina Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo dove si occupava di alcolismo, tossicodipendenza, problemi psicologici in generale. Soltanto una volta arrivata in provincia di Torino aveva conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, il padre di suo figlio e infine il loro assassino. La coppia che era sposata dal 2014 e prima risiedeva a Nichelino era arrivata in quell'appartamento dove si è consumata la tragedia soltanto dalla scorsa estate. Dal 2016 però abitava nella stessa zona ed era poco conosciuta nel quartiere. A Rocca Casale Teodora ha la madre e fratello mentre il padre è scomparso di recente. Una famiglia segnata dal dolore, reso più forte questa volta da una tragedia inumana, un'esplosione folle di violenza che in una notte ha spezzato due vite, quanto basta per dare alle cose il proprio nome, femminicidio nel caso di specie. Il marito è stato interrogato in giornata nel corso dell'interrogatorio di Convalida mentre a Rocca Casale, in attesa dei funerali e del lutto cittadino, si continua a piangere su quella panchina rossa che lo zio di Teodora, il vice sindaco Agostino De Simone, aveva fatto posizionare nei mesi scorsi, in collaborazione con l'Innerwill. Incredibile ma vero. Intanto si resta sul fiato sospeso per le ricerche sul Monte Velino, ormai quasi una settimana da quando i quattro avezzanesi risultano dispersi, quindi al momento ancora infruttuose e senza esito. Sono ripartite stamattina ricerche dei quattro escursionisti dispersi, la domenica scorsa sul Monte Velino. Circa 100 uomini tra soccorso alpino, guardie di finanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, nono reggimento alpini sono impegnati nelle ricerche a Vajelam all'incrocio con la sella del Bicero, zona interessata da una balanca estesa a due chilometri con uno strato di neve spesso dai 9 ai 12 metri. Oggi per la prima volta sarà utilizzato in Abruzzo un potente sonar del soccorso alpino arrivato dalla Valle d'Aosta. Si tratta di una tecnologia recco, un'antenna di 80 centimetri di diametro trasportata da un elicottero dei carabinieri ex forestali in grado di captare anche a profondità importanti i metalli, ovvero chiavi, cellulari, metalli degli indumenti da alpinisti. È una tecnologia che il soccorso alpino da un anno in piega con successo in Valle d'Aosta e in Trentino che si spera dia risultati a questo punto anche sul Monte Velino dove si resta in apprensione. È previsto anche lo spostamento con elicottero Ericsson adatto al trasporto di grandi carichi del battipista dal vicino comprensorio scistico di Ovindoli con cui sarà eseguita la delicata fase dello smassamento della neve a cura dei vigili del fuoco. Passano quindi le ore, i giorni e resta il clima di preoccupazione. La cronaca giudiziaria che ci porta a rivisondoli con l'ipotesi di truffa e abuso edilizio a processo è finito il sindaco dopo il rinvio a giudizio disposto dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sulmona. Sentiamo i particolari al nostro servizio. Il gruppo del Tribunale di Sulmona Marta Sarnelli ha disposto l'invio a giudizio di Roberto Ciampaglia sindaco di rivisondoli di altri quattro imputati per i reati di abuso edilizio e abuso di ufficio continuato, truffa aggravata ai danni della Regione per il conseguimento di finanziamenti pubblici. Il processo si celebrerà il 13 luglio 2021 davanti al Tribunale di Sulmona. Nella richiesta di rinvio a giudizio del procuratore della Repubblica di Sulmona Giuseppe Bellelli il sindaco Ciampaglia viene definito dominus socio occulto e amministratore di fatto della Royal Immobiliare SRL, società finanziata con ingenti somme transitate sui conti della sorella. Il sindaco Ciampaglia avrebbe realizzato un hotel resort nel centro abitato di rivisondoli mediante una serie di abusi edilizi in concorso con una dipendente del comune molto vicina al sindaco con il fratello della donna, entrambi amministratori della società ritenuti dalla procura della Repubblica di Sulmona, Meri Prestanomi. Secondo i consulenti della procura l'intera struttura alberghiera è stata realizzata con svariati interventi edilizi in violazione delle norme edilizie urbanistiche che da un magazzino preesistente, grazie a una serie di varianti DIA, hanno portato a edificare il complesso ricettivo a quattro stelle denominato realis assunta madre. I lavori commissionati da sindaco dopo un permesso rilasciato dallo stesso comune di rivisondoli per ristrutturazione edilizia, poi autorizzati per affittacamare, hanno anche ottenuto dalla finanziaria della regione Fira un finanziamento di 150 mila euro, da cui rinviaggiudizio anche per truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, avendo in realtà il sindaco realizzato abusivamente da un vecchio magazzino aumentato di superficie e volume per tre volte e ha sentito come affittacamare un hotel resort munito di spa e definito di lusso nello stesso sito web. Il sindaco Ciampagli è stato rinviato a giudizio anche per abuso d'ufficio, per aver violato il dovere di astenersi e favorito se stesso e la sua società deliberando assieme al Consiglio Comunale vendite di aree comunali alla Royal Immobiliare da destinare a parcheggio dell'hotel e per aver ceduto in uso trentennale un cannone anno in favore di altra area di parcheggio, dove averla fatta pavimentare a spese del comune. Il sindaco è stato inoltre prosciolto da un'ulteriore ipotesi di abuso di ufficio in relazione a una diversa vicenda relativa alla riduzione del cannone di locazione dei locali di proprietà del comune destinati a bar. E dopo il bando fermenti in comune a Palazzo San Francesco, i pentasterati sumonesi insistono, su Mona dicono, non è una città per giovani. E dallo scorso marzo che sono bloccate tutte le attività del centro di aggregazione giovanile ed è sempre dallo scorso marzo che giovani frequentatori dello stesso centro non hanno più un momento di incontro sociale, promosso dall'amministrazione neanche via web, scrive il portavoce Angelo D'Aloisio. Un'amministrazione comunale talmente distratta sulle politiche giovanili che non ha provato a costruire nemmeno una consulta giovanile, che pur sapendo i dati di numerosi giovani vittime di disagio giovanile in cura al CIM, al CERT, non fa nulla per fornire alle nuove generazioni spazi di aggregazione sociale e scambio culturale. Un'amministrazione comunale, continuano i 5 Stelle, che non ha coinvolto le associazioni culturali cittadine e le cooperative sociali per un progetto condiviso finalizzato a debellare il disagio giovanile che ha avuto e che continua ad avere le politiche giovanili chiuse in un cassetto, mentre i suoi giovani, quelli fortunati e con una famiglia, passano le giornate davanti a geli di videogame, mentre i meno fortunati sono seduti nei vicoli in compagnia della loro solitudine. Questo è il quadro che traccia il Movimento 5 Stelle, che poi insomma è un po' il sentore sui disagi dei giovani anche nell'immaginario collettivo. Prima di chiudere io vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Bene, è davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Riggi che torna, come ti consueto, questa sera intorno alle 20.10 circa. Tutti buon pomeriggio.